Quint'ultima giornata di campionato. Ritorna la formazione Cremisi tra le mura amiche. Di fronte si ritrova il chieti di mister Alessandro Lucadelli, formazione abruzzese che ha raccolto più punti in trasferta che tra le mura casalinghe. Un assente di spessore per parte, zammarchi per i padroni di casa e di mino per gli ospiti. Schemi tattici speculari 3-5-2. La scelta dei due allenatori. In casa Cremisi alla fine mister Mosconi decide di schierare Matteo Miccoli a supporto del capitano Ettore Padovani. Sul fronte opposto linea d'attacco composta da Orlando Erberna. Nemmeno 40 secondi. Rilancio di Mengani per capitano Ettore Padovani che si incunia tra tre giocatori ospiti e poi viene steso in aria direttamente dal portiere Fusco. Dai 11 metri si porta per la battuta del rigore Lorenzo Capezzani che mette alla destra di Fusco e porta così in vantaggio la formazione del Tolentino. Al sesto minuto è la traversa a salvare la seconda capitulazione ospite. Dopo lo scambio con Padovani Miccoli colpisce la traversa della porta Teatina. Ma due minuti più tardi il pallone si insacca per la seconda volta nella porta abruzzese. Angolo di Severini, testa di Padovani e rete. Settimo sugillo stagionale per l'attaccante Cremisi. Nei primi minuti di gioco c'è solo una squadra in campo, quella Cremisi con i neroverdi che sembrano mentalmente ancora essere negli spogliatoi. Al tredicesimo il trist dei padroni di casa è servito. Spiovente proveniente dalla sinistra, mezzo liscio difensivo ospite e Mencani si aggiusta il pallone sul piede giusto e porta la sua squadra sul 3-0. Terzo sigillo stagionale per l'Under Cremisi classe 2004. Bisogna arrivare al ventesimo minuto per assistere alla prima conclusione ospite. Mariani ci prova di prima intenzione ma non inquadra lo specchio della porta. Al trentesimo la gara si riapre da sinistra a destra. Orlando scatta sul filo del fuorigioco e con un colpo di testa supera l'estremo difensore Cremisi. Al trentaquattresimo ci prova Siragusa, uno dei migliori della formazione ospite che spedisce però al lato. Quando manca un minuto al termine della prima frazione Severini e Padovani dialogano ma nel tiro del capitano Cremisi è da dimenticare. Si chiude la prima frazione sul 3-1 per il Tolentino. Tre campi ad inizio ripresa. Nei padroni di casa Bartoli e Stefoni prendono il posto di Strano e Mengani. Chiacchia prende il posto di Di Renzo nei Neroverdi. E ovviamente Unchietti più convinto dei propri mezzi e voglioso di riprendere la partita che spinge con più insistenza ad inizio ripresa. Facendo possesso palla ma comunque sterile nella finalizzazione dell'azione. Al sesto il capitano abruzzese Aquilanti conclude ma anche questa volta non inquadra lo specchio della porta. Al diciassettesimo direttamente da calcio d'angolo Severini manda il pallone verso lo specchio della porta. Fuscus Manaccia di nuovo deviando in angolo. Al ventunesimo scambio Chiacchiaverna e palla di un nulla al lato. Al trentatresimo Prosperi serve Severini, pallone per il capitano Cremisi che manca l'ancaggio. Al trentasettesimo allungo in aria di Mariani per Fabrizzi, contratto in aria tra l'attaccante abruzzese e Bonacchi per l'arbitro e rigore. E dai 11 metri batte El Oazzuni e spiazza direttamente il portiere del Tolentino. Al quarenturesimo duello al limite dell'aria Cremisi tra Stefoni e Siragusa. Punizione ospite va alla battuta vendola, pallone non trattenuto da Bucos e palla che entra in porta per il 3-3 finale. Entrambe le squadre muovono la classifica, i Cremisi rimangono secondi appaiati dal Trastevere. Mentre per la formazione ospite un punto fondamentale che fa morale in proiezione di fine stagione. Allora mister, parchità rocambolesca, sei gol, dopo il 3-0 ci credeva a portarvi a un punto? Ma non è questione di crederci, è chiaro quando poi accorci. Però io devo un po' chiedere scusa a tutti per i primi 20 minuti. Perché oltre ai meriti sicuramente del Tolentino, però ci sono stati tanti dei meriti. Mancava solo che la mettessimo dentro con le mani noi per prendere un altro gol. Quindi è stato un avvio veramente shock. Sicuramente in merito della squadra del Tolentino che però non credo che pensava di stare al decimo minuto 3-0. Per quanta differenza tra virgolette ci possa stare. Poi invece come la formichina abbiamo cominciato a produrre gioco. Sicuramente il Tolentino ha mollato un pochettino la presa. E noi siamo stati premiati con una bella azione sul primo gol. E poi credo che abbiamo anche sviluppato secondo me diverse trame di gioco. Che è la nostra caratteristica. Oggi ha pagato in quella maniera, è la prima volta che ci capita tra l'altro. Perché poi nell'arco di un campionato può succedere che recuperi i partiti in questa maniera. Certo mi rendo conto che lo 0-3 in casa, 3-3. Ma può essere per noi uno stimolo per continuare e fare questi altri benedetti 4-5 punti. Che secondo me mancano per raggiungere la salvezza. Bene, approccio da grande squadra. Abbiamo sbloccato subito, abbiamo fatto un grande primo tempo. Il rammarico è che non doveva finire 4-0. Abbiamo concesso purtroppo l'occasione a loro su un fallo laterale che abbiamo fatto l'uscita. Però dispiace perché fino a 10 minuti finita la squadra vinceva 3-1. Abbiamo portato tante partite in porto. Dopo dopo sono due palline attive perché rigore e punizione, tra virgolette. Dubbia, però non dobbiamo rissiare di concedergli via. Il rammarico è quello. Il rammarico è quello.